10 agosto 1974 la data di nascita della prima televisione privata in italia firenze libera noi che realizzammo allora questa prima trasmissione con mezzi di fortuna e con tutti i rischi che allora comportava mandare in onda una emissione televisiva che non fosse del monopolio siamo lieti e orgogliosi riproporla come un ricordo storico è grazie a questa trasmissione che oggi in italia ci sono le televisioni private è grazie al coraggio di pochi che allora fu vinta la battaglia contro il monopolio ed è grazie a questi che oggi molti programmi giungono alle vostre case come tutte le piccole cose che hanno dato origine alle grandi cose è bene ricordarlo e noi lo ricordiamo grazie a tutti